la griglia cambia la vita sono karim el gaish ho 36 anni e vengo da austin texas mi chiamano il cowboy egiziano prima vivevo al cairo in egitto ero venuto a austin a trovare un amico e appena sceso dall'aereo quello mi ha portato a provare la carne grigliata un morso e la mia vita non è più stata la stessa perciò ho deciso di trasferirmi dall'altra parte del mondo solo per il barbecchio